Domenica 11 giugno anche a Genova si terranno le elezioni per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale. Si vota dalle ore 7 alle ore 23. Domenica 11 giugno alle elezioni comunali vota Partito Democratico per Gianni Crivello Sindaco. Vogliamo una città in cui crescono sviluppo e lavoro, investendo su innovazione tecnologica, industria, logistica portuale, cultura e turismo. L'11 giugno vota Partito Democratico. Fai vincere il futuro. Domenica 11 giugno vota Gianni Crivello Sindaco e per il Consiglio Comunale traccia una X sul simbolo del Partito Democratico. Puoi esprimere due preferenze nella nostra lista, purché di genere diverso. Se vuoi conoscere i nostri candidati in Consiglio Comunale vai sul sito www.pdgenova.it oppure sui nostri profili social Facebook e Twitter. L'11 giugno vota Partito Democratico per Gianni Crivello Sindaco. Fai vincere il futuro.